cosa dici qual è l'analisi che fai stasera io credo che ce ne sia una principalmente giusta da fare un tempo a testa il primo tempo loro ragazzi è stato meraviglioso meraviglioso è stato il primo tempo loro perché noi non abbiamo giocata sta partita si è rimasta nello spogliatoio credo che all'intervallo tanti giocatori si siano cambiati il pannolino questa sera perché era palese che fosse un po di paura di strizza intorno pochettino ma se partite vanno giocate io credo che sia stata troppo rispettata la Lazio questa sera perché come ne parlavamo anche oggi nel video per partita loro i primi tempi nei primi 15 minuti vanno a manetta loro sono partiti forti perché loro partano sempre forti e noi abbiamo voluto soltanto arginarli e limitarci a questo dicendo vabbè dai noi facciamo il secondo tempo perché loro nei secondi tempi e soprattutto nell'ultima mezz'ora calano sono calati eh sono calati ma perché loro sono calati sono calati solo per colpa loro o sono calati anche per merito nostro perché io sono abbastanza convinto che stasera la partita della Juventus sia stata preparata proprio su questi binari farli sfogare nel primo tempo poi sicuramente loro calano noi siamo ancora in partita e ce la vediamo dopo e tra l'altro nonostante il brutto primo tempo perché il primo tempo è stato brutto della Juventus tu eri 1-1 e quindi l'inerzia comunque andava dalla tua parte perché tu su 46 minuti di primo tempo ne giochi 1-30 44 minuti e 30 secondi due giochi a loro 1 minuto e 30 lo giochi te e riesci a fargli il gol riesci a fargli il gol riesci a pareggiarla dopo pochi minuti perché ti viene il nervoso pochi minuti perché adesso io apro e chiudo una parentesi però a me sembra che il fallo sul gol di Milinkovic ci sia perché se un giocatore è in area e viene toccato viene sbilanciato per togliere equilibrio la domanda da farsi è perché allora Milinkovic ci mette quella mano su Alessandro ovviamente gli mette per togliergli l'equilibrio poi non voglio stare qui a parlare gli arbitri non mi interessa come per me addirittura c'era un rigore su Federico Chiesa sempre per Milinkovic le mette ma non è quello il punto perché la lastra del primo tempo merita di essere addirittura in vantaggio la Juventus non merita di pareggiarlo per quello che si veste in campo al di là dell'episodio arbitrale che è giusto dirlo perché è giusto dirlo dato che si fanno delle polemiche infinite su ste robe lo diciamo lo mettete al calderone ma non è quello che ci importa l'analisi calcistica da fare è tutt'altra e cioè che la Juventus nel primo tempo sceglie e decide una volontà di fare quel tipo di partita lì e si va male si fa male vi do un dato al fine primo tempo la Juventus aveva giocato l'85 per cento dei palloni all'interno della propria metà campo non fuori dall'area di rigore della lastra nella propria metà campo significa che soltanto il 15 per cento alle volte era andata di là adesso io così al volo non ci ho ancora guardato non ho idea cerchiamo di vedere invece la fine della partita come è stata distribuita 70 30 il che significa che il secondo tempo è stato un secondo tempo molto arrembante della Juventus che è andato a migliorare quella statistica lì perché è andato anche ad inglobarsi quella roba di brutto che c'era stato perché poi nel secondo tempo la Juventus viene fuori nel secondo tempo la Juventus viene fuori più che nel secondo tempo nell'ultima mezz'ora di gara io nell'ultima mezz'ora di gara di oggi non ho niente da dire è mancato il gol nell'ultima mezz'ora di gara di oggi è mancato il gol semplice basta e questo è l'analisi è questa se devo dire che la vittoria della Lazio questa serie è meritata come ci può stare la vittoria della Lazio così come probabilmente ci poteva stare anche il pareggio della Juve perché poi la Juventus ha messo completamente sotto la Lazio l'ha fatta rimanere in apnea all'interno della propria metà campo volte addirittura della propria area di rigore e il gol la Juventus lo poteva fare poi ci sono stati dei momenti qui si è visto un disordine allucinante dato dal fatto che noi non siamo abituati a dover fare la partita dover impostare magari anche da dietro per cercare di però cazzo ragazzi noi quante volte le abbiamo affrontate le squadre di Sarri in carriera un miliardo un fantastiliardo anche all'andata per come la vinciamo all'andata giustamente meritatamente squadre di Sarri sono compatte squadre di Sarri si coprano al centro vanno a prendere il centro come punto riferimento perché amano sviluppare il possesso del pallone il possesso del gioco il pallino del gioco dentro dentro il campo quindi loro sugli esterni lasciano molto sfogo o che scassa il mondo che una volta nel primo tempo ci siamo andati sugli esterni ci siamo mai andati mai 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 ma completamente mai abbiamo completamente dimenticato questa roba qui nel secondo tempo cambio di modulo esce Kostic di Maria si sveglia torna a destra sul ruolo naturale complice il fatto che è tornato nel suo ruolo complice il fatto che ha iniziato a girare diversamente eccoci qua finalmente una partita da parte della Juve che inserisce anche Chiesa dalla parte opposta con Chiesa di Maria sugli esterni tutta un'altra roba con Alessandro e Danilo sugli esterni tutta un'altra roba apro e chiudo la parentesi per dover ricordare che abbiamo parlato dell'arbitro Quadrado stasera ha rischiato seriamente più di un'occasione secondo me di prendere più di un cartellino giallo come è stato pure graziato in occasione di quel fallo che han detto non gliel'ha dato perché il pallone andava verso l'esterno piuttosto che verso l'area di rigore però anche nel primo tempo Quadrado fa due falli Quadrado abbastanza nervoso infatti prontamente giustamente Landucci poi chiama il cambio e mette dentro Danilo che era un cambio da fare già in prima battuta già in precedenza e anche l'ingresso di Milik si sente l'ingresso di Milik è importante perché Vlaovic non stava bene sicuramente la caviglia quella brutta caduta non ho capito che cosa gli è successo tutto quello che volete però Vlaovic è molto meno bravo rispetto a Milik a fare il tipo di lavoro che richiede Allegri e che richiede una squadra come la Juve che gioca in questo modo qui mi dispiace mi dispiace davvero tanto perché io sono stato tutta sera a pensare che anzi ho respirato aria positiva io l'ho convinto di non perderla sta partita poi l'ultima mezz'ora veramente mi ha galvanizzato e ti viene da chiedere cioè è la cosa più logica più naturale del mondo chiederti a parole che allora non andiamo sempre così perché questa squadra sembra nata no questi giocatori sembra nati per fare questo tipo di cose anche il fatto che abbiamo lasciato un certo punto il 352 per il 433 quanto abbiamo liberato le caratteristiche tecniche di chiesa e di di maria di maria mi ha fatto due aggancia un certo punto sulla linea uno dietro l'altro che in serie a chi lo fanno lui varaschelia di bala e forse poco bassa sta bene non so quanti altri giocatori mi rifanno quei due agganci la di maria di mancino a dar pionare a mettere giù quei palloni lì e chiesa ragazzi uno contro uno palla c'è palla non c'è me la metto da una parte vado dall'altra chiesa c'è quello spunto lì quando gioca dietro la punta lo vai a limitare troppo terribilmente un altro giocatore quindi io stasera va bene abbiamo perso è stata una sconfitta stasera mi porto a casa anche delle note positive siccome stasera ci sono state delle cose buone da prendere in esame ce ne sono state tante brutte perché il primo tempo è francamente inaccettabile totalmente insufficiente quella roba lì non la voglio più vedere non è nemmeno il peggior primo tempo della stagione perché mi momento quello a genova con la samp in casa con la salernitana col monza il maccabi ce ne sono milan a san siro ce ne sono tantissimi di brutti primi tempi non voglio tirare in ballo il peggiore migliore no è stato brutto bruttissimo però secondo tempo una squadra scarsa non ti gioca quel secondo tempo lì una squadra che non ha le qualità non ti gioca quel secondo tempo lì allora cazzarola ma se ce le abbiamo queste potenzialità qua ma perché non le vogliamo esprimere perché non le liberiamo questa squadra quelle robe lì le può fare non le può fare per 90 minuti io sono d'accordo però tante volte non le facciamo e punto non le facciamo e punto perché tanto basta tanto è sufficiente no adesso siamo alla fine della stagione io quelle partite ne mancano 15 in tutto ne mancheranno 15 circa sia lì le prossime 15 partite le possiamo fare così andando sugli esterni ad attaccare con chiesa di maria che vanno tornano quando non c'è chiesa la giocherà costic che non è il suo ruolo sono d'accordo ma sono anche convinto che che possa fare il suo perché costic l'abbiamo visto un ottimo giocatore o abbiamo dei punti di forza che noi non andiamo mai a sfruttare questa partita qui l'abbiamo persa mi fa incazzare sì mi lascia anche speranzoso mi lascia fiducioso perché io stasera ho visto dei punti di forza importanti della juve e sono cose che da sempre a tutto l'anno vi dico siamo una squadra forte cazzo dobbiamo dimostrarlo sempre e questa è l'ennesima partita che aggiungo al mucchio secondo me siamo più forti di questa Lazio totalmente più forti di questa Lazio è ovvio che se noi decidiamo di lasciarli giocare decidiamo che che va bene così allora la Lazio o anche squadre meno forti perché la Lazio comunque una squadra forte anche squadre meno forti di questa Lazio possono venire a a darci fastidio quindi serie a la nostra serie a passa da non solo dal campo lo sappiamo però questa è una botta di adrenalina che ci deve che questa non è una sberra una carezza è una carezza che ci deve portare anche a capire determinate cose per le partite che davvero conteranno quella con l'inter il 26 d'aprile e ovviamente quella con non mi viene in mente con lo sport in glisbona già da giovedì che c'è l'andata d'europa league quindi ragazzi adesso passiamo sta pasqua tranquilli tra l'altro mi sa che lunedì si allenano però con la testa di dire oh ci siamo anche noi se è una squadra forte questo dobbiamo dire questo dobbiamo pensare perché questo è la juvento